Ancora questo, eh? Stai, c'è il soggettice che si fa quello di parte, che per i suoni o per i suoni insieme. Per i suoni insieme, questo tipo di disegnione faccia. Tu viene, ma anche un po' studiamo un po' di rado. Per i suoni. Dai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.